Ciao, innanzitutto grazie perché stai guardando questo video. Io sono Daniele Pesco, 39 anni e sono attivista del Movimento 5 Stelle a Milano. Sono attivista dal 2011, circa dalle elezioni comunali. In quel periodo mi sono incuriosito, ho guardato cosa stesse facendo il Movimento Evo Febrillo per Milano. Ho visto che molta gente stava dando da fare, ho partecipato all'incontro. L'incontro era in un bar, la cosa mi è incuriosito, ho partecipato e sono stato accolto in modo gentile. Da quel giorno ho iniziato a collaborare, con attività abbastanza semplici, quali la distribuzione dei volantini, la raccolta delle firme, l'organizzazione dei banchetti. La cosa mi è piaciuta ogni giorno di più. Grazie alle elezioni comunali siamo riusciti ad avere dei consiglieri, sia in consiglio comunale sia nelle varie zone. Io sono di zona 4 e oltre a essere stato attivo nella realizzazione della lista civica di zona 4 a Milano, siamo riusciti ad avere anche un consigliere, Danilo Boni. Io collaboro con Danilo Boni e seguo i lavori di due commissioni del consiglio di zona 4, in specifico la commissione di mobilità ambiente e la commissione territorio. Perché ho scelto queste commissioni? Perché sono ingegnere vive, mi ritengo abbastanza esperto per quanto riguarda l'edilizia e i lavori pubblici, anche perché lavoro in un ente pubblico, la provincia di Milano. Difatti da 10 anni circa mi occupo di edilizia, di lavori pubblici. So cos'è il processo edilizio, so come viene svolto l'intero processo edilizio all'interno degli enti pubblici. Di questa mia esperienza faccio logicamente tesoro e cerco di dare questo contributo come esperto ai lavori della commissione e ai lavori del movimento. Non mi occupo solo del consiglio di zona 4 a Milano, ma anche del consiglio di Milano, grazie ai gruppi tematici. Io participo ai gruppi di lavoro energia e al gruppo di lavoro rifiuti, con altri attivisti del Movimento 5 Stelle qui a Milano. Nello specifico cosa facciamo? Cerchiamo di approfondire le tematiche per proporre delle azioni al consiglio comunale. Questo strumento, questo modo di agire a me piace molto perché gli argomenti vengono mano a mano approfonditi e mano a mano condivisi con tutti. Abbiamo uno strumento che si chiama TV Works col quale riusciamo a condividere con tutti gli attivisti gli argomenti e grazie al quale tutti possono dare il proprio contributo. In questo modo riusciamo ad avere un documento veramente condiviso e riusciamo a portare in consiglio comunale o in altra sede istituzionale quello che noi pensiamo. Riguardo la candidatura come parlamentare. Perché mi candido? Perché trovo il mio senso del dovere che mi porta a candidarmi in quanto secondo me tutti gli attivisti dovrebbero candidarsi in modo tale da dare a tutti gli attivisti la possibilità di scegliere la persona ritenuta in qualche modo più portata a fare questo mestiere, il mestiere del portavoce. Secondo me un portavoce deve essere innanzitutto in grado di parlare bene, riuscire a condividere gli argomenti con tante persone, riuscire a intraprendere, ad avere delle discussioni civili con tutti. La condivisione in questo caso secondo me è fondamentale. Dobbiamo riuscire a condividere e a portare delle idee buone in Parlamento per cambiare l'Italia. L'Italia secondo me sta versando una situazione veramente tragica. Gli aspetti che noi dovremmo approfondire nel più breve tempo possibile sono tre. L'Europa, il lavoro e l'ambiente. Secondo me sono tre tematiche fondamentali sulle quali dobbiamo concentrarci. L'Europa perché secondo me dobbiamo uscirne al più presto. Dobbiamo essere libri di stampare la nostra moneta. Dobbiamo essere libri di distribuire questa moneta a chi è in grado di creare lavoro. Non esiste, non esiste che ci siano persone disoccupate in Italia. Quindi innanzitutto dobbiamo tornare a essere ferronari del nostro Paese. Stampare la moneta, dare la possibilità a chi può creare lavoro di creare lavoro. Ambiente. Anche dal punto di vista ambientale siamo in una situazione tragica. Nel senso che gli obiettivi del 2020, che ogni Paese dovrebbe riuscire a rispettare entro il 2020, secondo me in Italia non si sta facendo nulla che ci possa permettere di rispettare questo obiettivo. Perché non viene fatto abbastanza? Perché il consumo dell'energia è semplice, ci tengo a dirlo anche se forse questa non è la sede più adatta. Il consumo dell'energia in Italia viene ancora visto come metodo di accrescimento del prodotto interno all'orto. Più noi consumiamo, più il prodotto interno all'orto cresce. E questo è fondamentalmente sbagliato, perché l'ambiente ne risente tantissimo. Bisogna riuscire a condividere con più persone possibile la tematica del risparmio energetico. Quindi in soldoni queste sono le tematiche sulle quali mi sento più portato e alle quali penso di riuscire a dare il mio miglior contributo all'inizio. Ciò non so io che mi occuperò per forza di altre tematiche. E non vedo l'ora di riuscire a farlo. Sono contento del fatto che a Roma andrà sicuramente tantissima gente. Si creerà un gruppo forte, consolidato. Però sono dell'opinione che senza la bande, che dà il proprio contributo, non si riesce a fare molto. Il contributo di tutti è fondamentale. Mi sto rendendo conto, però, che fare l'attivista nei ritagli di tempo dà, sì, un ottimo contributo, ma non è sufficiente. Sono dell'opinione che ci debbano essere altre persone in grado di collaborare con le persone che vengono a esse per portare avanti le nostre idee e per migliorare per migliorare i nostri strumenti. Quindi sono dell'opinione che il parlamentare logicamente deve avere il suo stipendio, ma sono anche dell'opinione che le persone che collaborano a tempo pieno con queste persone debbano essere in qualche modo remunerate. Quindi non ho nient'altro da dire. Solo che fare l'attivista del Movimento 5 Stelle è una cosa che mi piace, continuerò a farlo anche se non vengo eletto. Ci saranno magari altre occasioni, ma sono allo stesso modo contento che in questo momento molte persone si stanno avvicinando al Movimento 5 Stelle e spero che queste persone restino al Movimento 5 Stelle per dare un ottimo contributo per portare avanti le idee nelle quali crediamo e con le quali speriamo di cambiare l'Italia. Ciao. Grazie.